Continuiamo con la linea di Lindemans da 25 e oggi saraggiamo questa Goeuse. La birra in questione è appunto la Lindemans Goeuse di Lindemans, birrificio belga. Lo stile è, come dice il nome, una Goeuse, grado alcolico 5 gradi, prezzo acquistata anche Schenkerri 2,20€. Il bicchiere è suggerito per questa birra direi o un bicchiere a chiudere o anche un tumbler e non si tratta di un primo assaggio. Allora, partiamo prima dal bicchiere. Non ci sono secondo me indicazioni particolari. Io preferisco generalmente il bicchiere a chiudere per quasi tutto, o almeno quasi tutto ciò che rientra negli stili tradizionali del Belgio. Sicuramente alcuni lambic vengono anche serviti in tumbler, è il motivo più che alto tradizionale, perché alcuni di questi tipi di lambic sono considerati delle birre tradizionalmente povere, delle più popolari diciamo come birre, quindi si utilizza un bicchiere di questo tipo. È una scelta. In questo caso comunque sappiamo già che non è una birra particolarmente complessa, quindi non vale tanto la pena scervellarsi su quale possa essere il miglior tipo di bicchiere da utilizzare. Per quanto riguarda invece la bottiglia, come ormai avrete già visto in tutte le altre puntate di Lindemans, credo che ne mancano un paio e poi finiamo tutta la serie delle Lindemans da 25. Potremmo passare a quelle un po' più grandi. È un po' la serie entry level per così dire, per chi si vuole avvicinare in generale al mondo delle birre acide. Le bottiglie di Lindemans hanno sempre, anche queste qui diciamo un po' più economiche, un pochino più piccole, hanno sempre la carta metallica sopra con tappo sotto il logo e il font di Lindemans. Lindemans Coors hanno di fondazione 1822 Lambic Beer, birre artigianale, filtrata, viene specificato, a fermentazione spontanea. Questo è interessante che specifica Lindemans, che filtra, o meglio microfiltra, le proprie birre, cosa che per esempio altri birrifici che trattano birre acide o trattano Lambic non fanno. Sono scelte discutibili, bisognerebbe parlare anche qui per ore sulla decisione di filtrare, non filtrare, pastorizzare o non pastorizzare le birre. Sul retto ci sono un po' di informazioni, c'è l'otto, non c'è la data di imbottigliamento purtroppo, c'è solo la data di scadenza e gli ingredienti. Interessante, malto d'orzo, malto di frumento. C'è anche scritto tra gli ingredienti che viene aggiunto zucchero candito e vabbè anche un antiossidante, acido ascorbico. Una piccola nota sull'aggiunta di zucchero candito. Allora, lo stile Goeuse è uno stile tradizionale che prevede la mescita di due diversi batch, di due diverse cotte, due diversi Lambic. Il Lambic è una birra a fermentazione spontanea, dovrò fare, dopo che me lo dico, dovrò fare una puntata dedicata solo a questo stile. Comunque, in generale, le birre a fermentazione spontanea sono birre che vengono lasciate a contatto con l'aria per un periodo più o meno lungo e vengono fatte in un certo periodo dell'anno in una certa zona del Belgio, tradizionalmente il Paiotteland e poi adesso altri si stanno un po' cimentando in questo stile. C'è tutta una diatriba sui Lambic americani che vengono, credo, anche abbastanza giustamente un po' denigrati dai bevitori più conservatori. Comunque, queste birre, appunto, a contatto con l'aria, vengono a contatto con tutto un mix, principalmente, di funghi e batteri, quindi di lieviti e muffe e di batteri e si sviluppano poi, appunto, tutti i processi di fermentazione interna. Questa è la base, diciamo, di tutti i Lambic. Le Goeuse sono uno sviluppo di questo stile, nel senso che vengono presi due Lambic, i due Bech che dicevo prima, dopo la fermentazione primaria rimescolati. In questo modo, durante la fase di mescolamento, si riossigena il liquido e parte una seconda fermentazione in bottiglia dove fermenta, quindi, al chiuso, o in bottiglia o in botte, insomma, dipende in casca, dipende un po' dove viene fatta questa seconda fermentazione che crea, quindi, anidride carbonica perché non c'è un gorgogliatore, non c'è la possibilità di sfiato e quindi si crea il cosiddetto effetto champagne, quindi una birra molto frizzante con bollicine medio-fini. Le Goeuse vengono indicate un po' come lo champagne delle birre. Il fatto che in questa birra ci sia scritto che c'è dell'aggiunta di zucchero candito mi fa pensare che possa essere stato aggiunto lo zucchero candito per migliorare, diciamo, la seconda fermentazione. Solitamente si aggiunge lo zucchero o altri composti a base di zuccheri semplici, il miele per esempio, per far partire una seconda fermentazione in bottiglio e in fusto quando è completata la fermentazione primaria, diciamo. Potrebbe essere così, come invece magari sia stato aggiunto semplicemente per correggere poi il sapore finale, visto che l'Indemans tendenzialmente non si fa troppi scrupoli a filtrare e pastorizzare, ossia fare quei processi che standardizzano il processo di fermentazione spontanea, che è un po' la caratteristica effettivamente della fermentazione spontanea e proprio la diversità di anno in anno, perché quest'anno mi fermenta in un modo, l'anno prossimo mi fermenta in un altro, e invece il blend, quindi unire annate diverse, aggiunto alla microfiltrazione, alla pastorizzazione e alla correzione con zucchero, ovviamente sono sicuro di avere un prodotto uguale, sempre uguale nel tempo. Due punti di vista differenti tra l'Indemans e altri produttori di Lambic che non filtrano, non pastorizzano e scrivono in grosso sull'etichetta di che anno è, in modo tale da assaggiarsi le differenze tra i diversi anni, ma comunque sono due diversi modi di lavorare e due pubblici completamente differenti. Ovviamente l'Indemans è un prodotto che si rivolge a un pubblico o non amante di prodotti particolarmente complessi o anche un pubblico che vuole un prodotto complesso, ma ogni tanto vuole anche concedersi qualcosa di un po' più semplice e un po' più economico in questo caso. Ho parlato tantissimo, il mondo delle birre acide è un mondo interessante, potrei andare avanti davvero a parlare per un sacco di tempo, ma direi che ci fermiamo qui e andiamo ad assaggiare questa birra. Sempre sul tappo, come tutte le birre di Lindemans, il tappo sotto la cartina metallica riporta il logo di Lindemans. Ora vado a scartarlo e poi gli faccio una foto magari. C'è quindi il logo di Lindemans con il loro fonte, l'anno di fondazione, 1822. E' appunto la scritta Lindemans. Verso completamente questa birra perché, come dicevamo prima, è filtrata, non c'è davvero mai mai nessun residuo sul fondo nelle birre di Lindemans. Allora, che dire, partiamo dall'analisi visiva. La schiuma se ne sta già andando, è normale in questo stile, in tutte le birre acide, è abbastanza normale che la birra non abbia una schiuma persistente, comunque la poca schiuma rimasta è molto fine, abbastanza irregolare e di colore bianco. La birra è un ambrato abbastanza limpido, no, molto limpido direi. Si vede qualche bollicina, me ne aspettavo un po' di più, ma comunque se ne vedono alcune. Ha dei riflessi un po' più luminosi, un po' tendenti al rosso. Vediamo il naso. Allora, a differenza di altri prodotti Lindemans, la cosa buona di questa birra è che incominciano un po' a emergere tutti i caratteri tipici delle birre a fermentazione spontanea, che sono quindi tutti quei sentori che vanno verso la muffa, la cantina. Io trovo sempre, quando annuso le birre a fermentazione spontanea, tra le varie emozioni e sensazioni che ti si accendono in testa, ci sono ovviamente la cantina e c'è anche la buccia del salame, il salame che stagiona. Ovviamente sono le caratteristiche di questi stili che hanno una fermentazione spontanea, quindi di muffe e di lieviti e di funghi in generale. Qui si sentono questi profumi, cosa che in altri prodotti Lindemans molto fruttati si avvertono con davvero molta, molta, molta difficoltà. C'è anche qualcos'altro, qualcosa che va verso la frutta, direi, non saprei dire con esattezza, probabilmente direi verso albicocca, mi verrebbe da dire. Comunque c'è un profumo anche, un aroma anche fruttato. Non sono particolarmente complessi questi aromi, non ce li aspettavamo particolarmente complessi, apprezzo il fatto che però sia, a differenza di altre Lindemans 25 centilitri alla frutta, questa abbia finalmente un po' di carattere di muffa e di lambic. Vediamo in bocca. Allora, cominciamo dall'acidità, che è la caratteristica tipica di queste birre. L'acidità sì, non eccessiva, non arriva ai livelli hardcore di certe goes, di Ansem, di Buno o di Candillon, però ha una buona acidità, un buon corpo, molto molto leggero, ma con una buona frizzantezza. Per quanto riguarda il gusto, c'è un'apertura abbastanza dolce, in questo caso, è molto leggera e l'intensità gustativa è abbastanza bassa, però ha questa apertura abbastanza dolce, che va tanto verso lo zucchero, il caramello e basta, non c'è molta altra cosa. Un amaro praticamente assente è semplicemente un acido. Le due grosse, grosse componenti in bocca sono appunto il dolce e l'acido, che si alternano. Il finale non è particolarmente secco, particolarmente asciutto, e soprattutto non è amaro. Persiste solo un pochino di acido. Che dire, è una birra interessante, piuttosto semplice rispetto ad altre goes, non particolarmente complessa o quasi poco complessa, direi. Può essere, come spesso dico per le Lindemans, un approccio iniziale per avvicinarsi alle birre acide. Credo che tutta questa linea di Lindemans sia un po' concepita come birre piuttosto facili da bere e piuttosto economiche. Di conseguenza è da prendere per quello che è. Non avevo una birra particolarmente complessa, ma non mi aspettavo una birra particolarmente complessa da Lindemans, al di là del fatto che questa goes l'abbia già assaggiata e appunto è una birra da bere in maniera piuttosto spensierata. Questa appunto era la goes dell'Indemans, Scal. Questa appunto è un po' concepita come 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 un po' concepita Grazie a tutti.